Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Apriamo ancora parlando della tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri a Limena, nel Padovano. Parliamo di Lisa Segato, la giovane che ieri è precipitata dal campanile. Una notizia, una tragedia che ha lasciato davvero tutti sconvolti. La notizia si è diffusa in pochissimo tempo con incredulità e dolore. Lisa era salita a fare delle fotografie, ma sentiamo il servizio. Lisa Segato, 29 anni di Limena, è salita sulla torre del campanile della chiesa di Limena. Aveva la macchina fotografica e aveva convinto il parroco a lasciarla salire perché doveva fare degli scatti. Nessuno avrebbe potuto immaginare che di lì a poco Lisa sarebbe caduta dalla torre campanaria. A trovare il corpo sono state alcune donne impegnate nelle pulizie che hanno dato immediatamente l'allarme. Lisa era a terra, esamine, accanto al corpo, la macchina fotografica. Sul posto sono giunti il 118 che purtroppo non ha potuto fare nulla, i carabinieri, la polizia municipale e il PM. Lisa era tornata da poco a Limena. Per lungo tempo era rimasta in Liguria dove aveva seguito un lungo percorso spirituale in un convento di clausura. Cosa è successo su quella torre? Come è caduta la giovane donna? Al momento restano aperte varie ipotesi. Forse si esporta troppo, forse si è mossa in modo sbagliato ed è precipitata. Tra le ipotesi non viene nemmeno tralasciata quella di un gesto volontario, ma tra chi la conosceva quest'atto viene assolutamente respinto. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente per il paese, lasciando dolore ovunque. Il sindaco di Limena decreterà il lutto cittadino nel giorno della cerimonia funebre. La famiglia di Lisa è molto attiva in paese e in parrocchia e in tanti si stringono al dolore così atroce. Un altro tragico incidente ieri ha segnato il territorio, questa volta a Monselice, nel Padovano dove è rimasto ucciso Cosimo Cassola, un noto pasticcere della località. L'uomo, 59 anni, aveva deciso di passare i binari della ferrovia nonostante le sbarre fossero abbassate. Improvvisamente il treno è arrivato e lo spostamento d'aria lo avrebbe fatto balzare e cadere. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, ma è stato portato all'ospedale di Monselice. Qui i medici hanno tentato di tutto per riuscire a salvarlo, ma i tentativi alla fine sono stati vani. Cosimo Cassola era titolare di una pasticceria molto nota, dolce e salato, famosa per le specialità siciliane. A Treviso sono state rinvenute delle microspie all'interno del comando dei vigili. E' scoppiata una sorta di guerra tra colleghi della municipale. L'accusato dice che è falso. Ci spiega cosa è accaduto, Serenella Volpato. Microspie per ascoltare i dialoghi dei colleghi in ufficio. Piccoli microfoni nascosti tra fogli e computer per captare i commenti e le verità nascoste di un comando che appare attraversato da veleno. E' l'accusa contenuta in un fascicolo di indagine della Procura della Repubblica di Treviso, nato da una segnalazione giunta da un anonimo appartenente alla Polizia Municipale della stessa città. L'ipotesi di reato più probabile è quella di illecita interferenza nella vita privata, che si concretizzerebbe soltanto nel caso fosse provata l'effettiva efficacia del dispositivo incriminato, ai fini dell'azione di spionaggio. Ad essere incolpato di questo un agente della caserma che si è giustificato dicendo che non si tratta affatto di una microspia, ma di un banale portachiavi ricevuto in regalo. Negli ultimi tempi all'interno del corpo di Polizia Municipale scorrerebbe cattivo sangue e per questo esistono varie denunce più o meno anonime. Ora si attendono le conclusioni della Procura, che comunque sarebbe propensa a ridimensionare le ipotesi di reato. Verona Sorvegliata Speciale, un'iniziativa voluta dal questore iniziata nei giorni scorsi, ma nella notte appena trascorsa si sono svolte verifiche a tappeto, passati a setaccio un po' tutti i quartieri cittadini. I controlli iniziati già nei giorni scorsi sono stati finalizzati a contrastare la presenza illegale di stranieri, lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio di stupefacenti interessati ai quartieri delle città, ma anche i locali, le sale giochi, strade, tutte le aree a rischio. Decine le persone controllate e ovviamente tantissimi gli agenti impegnati, parliamo di almeno un centinaia di uomini coinvolti. L'operazione ha coinvolto un centinaio di agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, della Mobile, dei reparti di prevenzione del crimine di Padova, Polizia Scientifica e dell'Ufficio Immigrazione. Padova, una città sempre più pericolosa. Ieri una donna di 77 anni, mentre era davanti al portone della sua casa, è stata colpita da uno sconosciuto, tutto per rubarle dei braccialetti che aveva al polso, ora pensate ricoverata con un'emoragia cerebrale, ma sentiamo il resoconto di ciò che è accaduto. Una donna di 77 anni è stata colpita violentamente al volto per essere derubata degli ori che indossava. Un episodio drammatico e grave avvenuto in Via Amati, al Civico 4, in quartiere Arcella a Padova. La donna era stata a fare la spesa in un supermercato del suo quartiere. Al rientro si era fermata a guardare la cassetta della posta. È stato in quel momento che uno sconosciuto le si è avvicinato, le ha parlato e poi le ha sferrato un violento pugno in volto. Nessuna pietà, l'uomo dopo averla colpita le ha strappato i pochi gioielli che indossava. A trovare la signora sono stati altri condomini che sconvolti hanno chiesto aiuto ai soccorsi. La 77enne è stata portata all'ospedale. Il colpo è stato talmente forte da averle procurato un'emoragia cerebrale. Per la donna è stato necessario il ricovero. Nel quartiere non si parla d'altro. Una vicenda che non può trovare giustificazioni. Una violenza inaudita che i padovani non vogliono più accettare. Quello che è successo alla 77enne poteva accadere a ognuno di noi. Di fatti ne stanno succedendo troppi in città e le vittime predilette risultano quelle più indifese. Donne, anziani e persone malate. In via Amati sono giunti anche i carabinieri che hanno raccolto elementi utili alle indagini e stanno concentrando le ricerche per identificare lo sconosciuto. Una caduta sulla neve e un volo di 30 metri sono stati fatali per un sessantenne di arcade. L'uomo era sulle pendici del Monte Grappa in provincia di Treviso. Stava risalendo una mulattiera quando è scivolato. Un volo lunghissimo e quando è caduto ha battuto la testa contro una roccia. La tragedia è avvenuta davanti agli occhi della moglie e di un amico. Inutili purtroppo i tentativi dei soccorsi intervenuti sul posto. Due agenti della polizia provinciale di Treviso questa mattina sono stati aggrediti a Boccafossa di Torre di Mosto lungo l'argine del canale Brian. I due erano andati sul posto per controllare la situazione delle nutrie. I due agenti si sono fermati nelle vicinanze di un'abitazione dove c'erano due grossi cani che abbaiavano. All'improvviso il proprietario della casa è uscito in vendo contro i poliziotti offendendoli e invitandoli in modi ovviamente non buoni ad andarsene. Al padrone di casa si è aggiunto poi il figlio brandendo tra le mani un bastone di legno con l'intenzione di colpire da dietro uno degli agenti. Il collega rendendosi conto di ciò che stava accadendo si è intromesso ma è stato colpito. Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Sanstino mentre l'agente ferito è stato portato al pronto soccorso. Gli sono state diagnosticate scoriazioni varie con una prognosi di cinque giorni. Torniamo adesso sull'argomento sicurezza a Padova. Problemi non solo nei quartieri cittadini ma anche dove dovrebbe regnare sempre la pace, il silenzio e il rispetto. Stiamo parlando dei cimiteri, sentite. Nei cimiteri padovani non si può proprio dire la famosa frase non c'è anima viva. Oltre alle tombe al silenzio c'è più di qualcuno che tiene compagnia ai defunti. Parliamo di gente viva che sa bene quello che vuole e che non va certo a trovare qualche parente scomparso o a dire una preghiera. Parliamo di malintenzionati, ladri, scippatori e tossicodipendenti. Da anni la situazione viene denunciata da tante persone e in vari cimiteri. Adesso, ultimo in ordine di tempo, torna in primo piano il Camposanto di Terra Negra. Negli ultimi giorni tante persone che avevano parcheggiato l'auto nel piazzale per entrare e portare un fiore a qualcuno che non c'è più si è trovata a fare i conti con i finestrini rotti delle macchine. Ma questo è solo uno degli ultimi episodi che fanno infuriare i padovani. A Terra Negra una donna era stata anche scippata. Non parliamo poi dei furti sulle tombe, cosa comune in quasi tutto il territorio. Perdere qualcuno che si ama è un dolore tremendo. Non poter andare sulla sua tomba per la paura dei malintenzionati è altrettanto grave. Una violenza alla quale i cittadini non sono più intenzionati a sottostare. Il cimitero deve essere un luogo di pace, non ricovero disbandati. Gli agenti della sezione pronto intervento della Municipale di Venezia hanno sequestrato 2000 giochi pericolosi e comunque venduti in maniera illecita in quattro negozi in via Piave e in via Dante a Mestre. A queste attività gli agenti sono risaliti seguendo i movimenti dei venditori abusivi del Bangladesh che operano di notte o comunque di sera in piazza San Marco. Gli agenti hanno ritrovato semi nascoste tra gli scaffali, numerose confezioni di dardi luminosi privi di qualsiasi indicazione e quindi non conformi alle norme. Altri sequestri di prodotti non conformi alle norme di sicurezza richieste dal nostro paese sono stati effettuati a Porto Gruaro. Questa volta i sequestri sono stati fatti dalla Guardia di Finanza. Oltre 100 mila gli articoli privi dei requisiti. La merce è stata trovata in un grande magazzino gestito da cittadini cinesi. Senza requisiti i prodotti per cancelleria, per cura della persona, ma anche bigiotteria, casalinghi, accessori per telefonia e tanti altri oggetti. Adesso parliamo di chili di troppo e ginnastica. C'è chi sostiene che poco fitness è meglio di molto. Scopriamo perché allora. Se abbiamo sensi di colpa perché abbiamo dei chili in più e non pratichiamo nessun tipo di sport e per giunta odiamo le lunghe ore di allenamento in palestra, anche se il fisico ne avrebbe un gran bisogno, insomma per tutti i pigri in sovrappeso arriva una bella notizia. Da uno studio delle università britanniche di Nottingham e Birmingham è emerso che non è più necessario trascorrere un mucchio di ore alla settimana in palestra o a fare jogging in un parco. Ha dimostrato che i migliori risultati si ottengono con un regime di fitness molto veloce e cioè 30 secondi di esercizio fisico molto intenso da ripetere per tre volte al giorno e almeno due volte a settimana. In pratica poco fitness fa meglio di molto. Gli scienziati sostengono che soltanto tre minuti di vero e proprio sprint ogni sette giorni danno più benefici alla salute di un'attività fisica tradizionale e aiutano anche a perdere gli odiati chili di troppo. Il segreto dunque sembra sia impegnarsi molto in tre brevi ma intense sessioni di 30 secondi ciascuno, anticipati da un breve riscaldamento con piccoli periodi di riposo. Tutto questo si può realizzare utilizzando la ciclette, il vogatore, il tapirulano o semplicemente salendo le scale. Il metodo è stato testato su 300 volontari e ne è stata dimostrata l'efficacia. Ma se si vuole arrivare alla forma perfetta è meglio aggiungere anche un po' di attenzione all'alimentazione e all'alcol e alle sue tante calorie. Qualche esempio, una pinta di birra contiene circa 255 calorie, quanto una barretta di cioccolato. E un bel bicchiere di vino bianco ne ha almeno 200. L'assessore comunale al turismo di Venezia ha intervenuto dopo la notizia dei due diplomatici danesi che avrebbero pagato 600 euro per mangiare frittura di pesce. La vicenda in poche ore ha fatto ieri il giro dei media a livello internazionale. Una pubblicità negativa dunque per il territorio e per questo l'assessore ha chiesto ai due cittadini danesi, peraltro dei diplomatici, che venga recapitata all'amministrazione comunale la ricevuta della cena. Tra le parole dell'assessore ha anche un senso di richiamo al dovere da parte dei commercianti. Deve comunque essere chiara a tutti gli esercenti la rilevanza internazionale che sempre e comunque hanno comportamenti che non seguono la massima correttezza e trasparenza, ha detto l'assessore. In una città come Venezia è necessaria una grande assunzione di responsabilità sul ruolo che svolge. Continua la polemica sulle sigarette elettroniche. Fanno male? Fanno bene? Ancora non si sa. Intanto gli svapatori crescono. Sentiamo. È diventata ormai più che altro una moda e ancora non si è capito se ha realmente dei vantaggi o se al contrario faccia addirittura male. Parliamo della sigaretta elettronica e l'opinione pubblica e scientifica è divisa sulla questione e per il momento non si è giunti ad alcuna conclusione. L'Istituto Superiore di Sanità per esempio le ha bocciate affermando che quelle contenenti nicotina sollevano delle preoccupazioni per la salute pubblica, sostenendo che potrebbero presentare potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, in particolare per i giovani. In risposta all'opinione dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Associazione Nazionale Fumo Elettronico, l'ANAFE, ribadisce che le sigarette elettroniche non sono presentate né vendute per smettere di fumare, ma come una valida alternativa al fumo di tabacco. Questa sigaretta innovativa offre ai fumatori notevoli potenzialità sociali e sanitarie per ridurre i rischi connessi al tabagismo e ai prodotti tossici nocivi normalmente presenti nel fumo di tabacco. Dopo le considerazioni delle due parti, a noi non resta che attendere la conclusione degli studi sui suoi effetti. Intanto aumenta il numero degli svapatori, come in gergo si chiamano i fumatori di sigarette elettroniche. In Italia, secondo i dati riportati dall'ANAFE, si contano circa mille punti vendita concentrati nel nord, con un giro di affari, stimato nel 2012, di circa 300 milioni di euro. Con l'accusa di bancarotta fraudolenta, uomini del nucleo della polizia tributaria hanno arrestato un foggiano. L'uomo responsabile di due aziende, Dili del Trevigiano, fallite nel 2010, era tornato nel suo paese. Dalle indagini è emerso che aveva effettuato ordini per oltre 4 milioni di euro in almeno 70 aziende. Avrebbe poi pagato con assegni postdatati, in realtà mai pagati. È emerso inoltre che dai conti bancari della società eseguiva prelievi incontanti che non avevano nulla a che fare con il lavoro. Dopo i fallimenti, l'uomo non solo ha lasciato treviso, ma ha anche distrutto parte della documentazione contabile. Importante operazione della provincia di Padova, che offre delle agevolazioni per l'inserimento dei lavoratori over 55. Oggi sono tra i lavoratori più penalizzati dalla crisi. Quest'iniziativa garantisce dunque un'opportunità per loro e agevolazioni alle aziende. Ma cerchiamo bene di capire cosa vuol dire e sentiamo tutti i dettagli. Tra le fasce di popolazione più penalizzate dalla crisi economica ci sono i cittadini over 55, uomini e donne superattivi ma che non riescono più a inserirsi nel mondo del lavoro. E pensando a loro, la provincia di Padova ha realizzato e firmato un accordo con il Comitato di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà. Queste persone, prime di ammortizzatori sociali, porteranno una dote lavoro alle aziende che le assumeranno. In totale saranno destinati ai beneficiari 250.000 euro, di cui 185.000 euro sono stati messi dal fondo e 65.000 dalla provincia. Potranno accedere ai contributi lavoratori disoccupati, domiciliati nel territorio provinciale padovano, di età superiore ai 55 anni, privi di ammortizzatori sociali e iscritti in uno dei nove centri per l'impiego con lo stato di disoccupazione. Dovranno presentare domanda entro le 12 dell'11 marzo, a mano oppure per fax al proprio centro per l'impiego. Dopodiché sarà formulata una graduatoria che terrà conto della maggiore anzianità di disoccupazione, dell'età e nel caso di parità della situazione economica dimostrata tramite modello ISEE. I potenziali cento beneficiari in possesso dei requisiti avranno poi un mese di tempo dalla data di pubblicazione della graduatoria per trovare una ditta disposta ad assumerli, grazie all'incentivo che i lavoratori consentiranno al titolare di ottenere. Ma cosa ricevono in cambio le aziende che assumono? Innanzitutto la società deve avere sede nella provincia di Padova. Per un contratto a tempo determinato di almeno tre mesi da parte di aziende con sede nel territorio il lavoratore porterà in dote 1.000 euro. Per assunzioni a tempo determinato di almeno sei mesi o a tempo indeterminato la dote sarà di 2.500 euro. Questi incentivi si sommano inoltre agli sgravi del 50% sulle contribuzioni previsti dalla riforma Fornero per chi ha compiuto i 50 anni. Quindi grazie a questa iniziativa per chi assume over 55 ci sarebbe una doppia facilitazione economica. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito della provincia di Padova. Parliamo di appuntamenti domani sera al Teatro Verdi di Padova. Spettacolo di Hector Hernández, il grande tenore colombiano conosciuto a livello internazionale. L'appuntamento alle ore 21. sarà una serata speciale che regalerà emozione e magia al pubblico presente in sala. Ricordiamo alle 21 al Teatro Verdi. Appuntamento con la storia invece nel pomeriggio in un'altra zona del Padovano. Il comitato spontaneo per la salvaguardia del territorio di Vigo d'Arzere nel Padovano sta organizzando una serie di incontri per conoscere il passato e i suoi personaggi. Alle 16 vi segnaliamo appunto che si parlerà di Giuseppe Verdi. Il relatore sarà il direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia. Si tratta di un incontro aperto a tutti e libero. Si terrà presso il centro parrocchiale di Vigo d'Arzere in via Pio X. Parliamo di clima. Da domenica secondo gli esperti ci sarà un cambio repentino delle condizioni. in arrivo freddo e nevicate copiose in particolare previste per la giornata di lunedì. Una nevicate che dovrebbe investire tutto il nord Italia. È tutto per questo appuntamento dedicato all'informazione. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata. Grazie per essere stati con noi.